Continua la carella sull'apertura delle scuole in questo periodo di emergenza covid. A un passo dalla fine delle vacanze natalizie è il nodo più importante da sciogliere e come già accaduto in passato in questi ultimi giorni decisivi i Pro Dad e i No Dad si confrontano affilando gli argomenti a disposizione. I sindaci campani si schierano al fianco del governatore e chiedono un rinvio. Il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, è chiaro, già prima delle feste natalizie ha detto abbiamo visto aumentare il numero delle classi in didattica a distanza per i molti focolai di contagio che si sono accesi nelle scuole. Se andiamo avanti così a metà gennaio corriamo rischi concreti perché nonostante i nostri continui appelli e gli allarmi che ci arrivano dal mondo scolastico le misure finora adottate sono state confuse e insufficienti. Per Marino dunque se si riapre con queste regole si rischia un'altra impennata di contagi e una caporetto del piano vaccinale. Chiediamo, ha detto ancora, al presidente della regione Campania di far sentire al governo nazionale e al CTS la voce dei sindaci della Campania per evitare che tutto si scarichi come sempre sulle amministrazioni locali e sugli operatori scolastici. Per questo suggeriamo uno slittamento delle attività didattiche raccogliendo l'appello di numerosi presidi e dei sindacati della scuola. Sul fronte opposto l'associazione Scuole Aperte Campania, il mondo della scuola in Campania ha già pagato il suo tributo alla didattica a distanza, ha detto la socia fondatrice Rosaria Chechile con le ormai note conseguenze negative. L'ambiente scolastico dove vige l'obbligo di mascherina, il distanziamento e la reazione delle aule non rappresenta affatto un rischio per la diffusione del contagio che semmai corre più facilmente in altri luoghi frequentati dai ragazzi. Chi sventola lo spettro di paure ancora troppo attuali, ha detto la Chechile, continua a recare un danno a intere generazioni di studenti campani, mentre nel resto d'Italia la scuola aperta e in presenza resta una priorità. La battaglia insomma è ancora tutta aperta e coinvolge il mondo politico, come dimostrano le opposte dichiarazioni del governatore De Luca e del Premier Draghi sulla vicenda.